Nel frattempo che l'avvocato Lucio Dattola sarà diciamo con noi, io vi voglio diciamo parlare per un attimo di un libro che è uscito edito da Eretica Stampa Alternativa, questo libro è Certi diritti che le coppie conviventi non sanno di avere ed è scritto da Bruno De Filippis, Gianmario Felicetti, Gabriella Friso e Filomeno Gallo, c'è da dire che questo libro edito appunto da Stampa Alternativa è un'edizione e soprattutto un progetto di certi diritti, ecco ora vi mostro la copertina che si dovrebbe vedere abbastanza bene, ecco qua, in questo libro le coppie conviventi che diciamo non sono unite dal sacro vincolo del matrimonio vengono definite coppie di fatto, e perché sono definite coppie di fatto? Sono coppie di fatto perché di fatto esistono e pur se non per la legge che purtroppo non riconosce loro dei diritti fondamentali come quello delle convivenze, dell'assistenza sanitaria in ospedale, come il diritto stesso di succedere eventualmente accadesse la premorianza di uno dei due o banalmente anche quello di, non so, decidere di lasciare anche un bene in particolare a uno di essi, ecco questo libro cerca di dare, è un piccolo va de me, comunque cerca di dare dei principi che chiunque si trovi in situazione di coppia di fatto può seguire, sono logicamente dei principi legali che magari per poterli concepire bisogna appunto rivolgersi a un avvocato esperto o comunque a qualcuno che conosca bene la materia. Bruno De Filippis, Gianmario Felicetti, Gabriella Frise e Filomen Lagallo, ma soprattutto l'associazione radicale di certi diritti hanno voluto racchiudere in questo piccolissimo libro quello che purtroppo in Italia si riesce a fare fino a quando non sarà promulgata una legge che comunque pare prima o poi possa avvenire appunto, parleremo proprio di questo con l'avvocato Lucio Dattola. Appena riusciremo a mettere 58 con lui, adesso vediamo di ritentare la chiamata in qualche modo che purtroppo con i mezzi, io volevo tra le tante domande porti quella che secondo me in questo periodo gira per la maggiore forza nella rete e che comunque non è affrontata in maniera essenziale e dal punto di vista legale che è quello che a noi interessa di più, che è la riguarda la sentenza numero 4184 del 2012 del 15 marzo scorso che è emanata dalla Suprema Corte che ha sancito questo nello specifico, pur non avendo una tutela legale le unioni omosessuali devono poter avere un trattamento omogeneo o quello assicurato dei coniugati, ce ne puoi parlare in maniera più specifica? Sì, allora innanzitutto dobbiamo partire da una riflessione che non riguarda soltanto quest'ultima appunto sentenza ma anche la 138 del 2010 della Corte Costituzionale, una riflessione così subito, stranamente il percorso è inverso dalla Corte Costituzionale che è l'organo comunque più autorevole in tema di interpretazione giuridica, si scende alla Corte di Cassazione e si arriverà, perché questa è l'apertura che dà la Corte di Cassazione ai tribunali ordinari. Dobbiamo dire che appunto la premessa non solo sociale ma soprattutto giuridica che ha consentito alla Corte di Cassazione di esprimersi in questi termini è proprio il riconoscimento della coppia omosessuale come coppia, quindi meritevole delle garanzie predisposte all'articolo 2 della Costituzione, meritevole di tutte quelle garanzie di natura giurisprudenziale che ci provengono dalla Corte di Giustizia europea. Dobbiamo partire da questo riconoscimento di coppia, quindi da questa rilevanza giuridica che ha la coppia omosessuale per dire che appunto la coppia omosessuale non è inesistente, così come invece parte della dottrina giuridica aveva inteso nella lettura restrittiva che aveva fatto appunto nella 138 la Corte Costituzionale. Quindi appunto l'inesistenza, perché dico questo? Perché c'è differenza tra inesistenza non solo da un punto di vista giuridico ma da un punto di vista proprio concreto, tra inesistenza e mancanza di garanzie, mancanza di legislazione. La Corte di Cassazione quindi si inserisce in questo filone aperto dalla Corte Costituzionale e proprio sulla base di questo riconoscimento afferma che, questo è uno dei punti, perché parliamo di una sentenza che ha quasi 80 pagine, quindi una sentenza particolarmente motivata, e appunto afferma un principio che è un principio giuridico ormai consolidato della trattazione di casi simili con una legislazione analoga. Tant'è vero che è sempre un richiamo al Parlamento di intervenire per normare una situazione simile ma non identica a quella della famiglia. però appunto è un richiamo a quella che è la volontà politica del Parlamento. Tant'è vero che domani, come ti anticipavo, noi faremo una manifestazione in varie piazze d'Italia, ci sarà una manifestazione per ricordare al Parlamento che è il momento di intervenire. Tant'è vero che la manifestazione che è appunto domani perché ricorda la data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale ha il titolo di ora basta, adesso tocca solo a voi, riferita al Parlamento. Quindi diciamo la Corte di Cassazione ha ribadito questa libertà del Parlamento di normare appunto la coppia omosessuale, ma in più si è rivolta direttamente alle coppie dicendo cari compagni, care coppie omosessuali, care coppie lesbiche, care coppie gay, voi avete tutto il diritto in base al principio di non discriminazione che trova quindi il suo fondamento nella sentenza della 138 nel riconoscimento in quanto coppia, avete tutto il diritto di rivolgervi direttamente su casi specifici ed in presenza di requisiti specifici ai giudici per avere, nel caso in cui possiate riscontrare una discriminazione di trattamento del vostro diritto di vivere una vita familiare, del vostro diritto di fare famiglia. Quindi diciamo tutti quegli aspetti patrimoniali, successori, fiscali, di esenzioni varie, di tasse, agevolazioni su prima casa, tutto questo può essere fatto valere di fronte al giudice adendo appunto il giudice ordinario. Questa è sicuramente una grande, voglio dire, cioè non sicuramente, è una grande svolta da un punto di vista non solo giuridico ma da un punto di vista sociale, culturale, perché a questo punto abbiamo una Corte di Cassazione che ha fatto proprio il diktat della Corte di Giustizia Europea e che appunto prevede nell'alveo, nel grande alveo della non discriminazione la possibilità di vivere una vita appunto familiare. Cosa diversa è questo, io ci tengo a sottolinearlo perché Archigay è una, così come certi diritti è così come la maggior parte delle associazioni, siamo associazioni politiche con la P maiuscola non partitiche, cosa diversa è il riconoscimento del matrimonio omosessuale, voglio dire, abbiamo un riconoscimento sul caso, cioè io e il mio compagno potremmo andare appunto dal giudice e chiedere il riconoscimento dei nostri diritti in quanto discriminati, ma il valore che sta alla base, per come almeno la vedo io, per come vivo io anche la mia appartenenza all'associazione, è un valore talmente civile, talmente alto che non può pretendere, non può essere declinato nel, appunto in un'attività giudiziaria, cioè per come la vedo io la battaglia che a questo punto è chiaro che cambia, ma che è una battaglia di civiltà dovrebbe essere appunto lo stato italiano, non dico agevola, ma riconosce e fa propria l'unione omosessuale, non è il giudice che rappresenta, sì uno dei poteri, appunto uno dei tre poteri fondanti di tutto il sistema costituzionale del nostro stato, ma non è il giudice che mi dà il riconoscimento, è proprio il parlamento e la volontà dell'Italia, sono i nostri rappresentanti eletti a riconoscere, a far propria l'unione omosessuale. Quindi sicuramente questo è il trampolino di lancio più importante che ci sia stato da quando sono nato io, dall'84, la prima sentenza, facendo un minimo di ricerca, la prima sentenza a livello europeo è dell'84, quindi comunque parliamo di pronunce abbastanza recenti. E questo sicuramente è appunto il passo più grande che l'Italia ha fatto in questo momento, ma attenzione, non so se si può dire che l'ha fatto l'Italia, sicuramente l'ha fatto uno dei tre poteri fondanti lo Stato. Quindi qualcosa si sta muovendo. Nei vari commenti io ho letto persone, magistrati, avvocati, colleghi che affermavano appunto, che mettevano in evidenza l'incertezza sul quando ci sarà una legge, perché una legge proprio del Parlamento, una pronuncia del Parlamento, evidenziando il periodo di crisi, evidenziando il governo tecnico, evidenziando la crisi soprattutto della politica, visto che grazie a Dio i sentimenti sono, se vanno in crisi, vanno in crisi per altri motivi e non per motivi economici. però, appunto, mettevano in evidenza come potrebbe arrivare domani, così come potrebbe arrivare fra dieci anni una legge vera e propria sui matrimoni, una legge ordinaria. E qui sta a noi, a noi come arci gay, ma come associazioni tutte, non solo con una specificità per la difesa ai diritti LGBT, ma proprio associazioni che mirano a far ascendere questo popolo ai valori primari dell'uomo, fondamentali dell'uomo, fare pressione perché diventi non semplicemente un'azione giudiziaria, ma un valore proprio dello Stato, la coppia omosessuale. Quindi questo è... Io pensavo... Questa è la mia analisi. No, no, la tua analisi è perfetta, tanto più che comunque, come arci gay, tu dicevi certi diritti, ma arci gay ha fatto da sempre battaglie incentrate sulla civiltà, sulla... sulle varie le disuguaglianze, e credo che comunque quello che... a quello che si dovrebbe aspirare è un po' cercare di allineare i diritti un po' come vuole la carta europea, un po' come vuole l'Europa, e non aggiungere diritti nuovi che poi, infine, è semplicemente, credo, un estendere un diritto che è quello dell'uguaglianza dei cittadini di Nanzalarete. Mi permetto... sì, la logica secondo me deve essere anche una. Noi possiamo, diciamo, considerarci più degli altri ed azzardare una nuova tipologia di famiglia. Questo lo possiamo fare. Ma ne abbiamo le capacità? La prima domanda. La seconda domanda è... In Italia siamo convinti che nel momento in cui ci sarà una legge, allora tutti i problemi saranno risolti, e tutto il problema di accettazione sociale, culturale, dove lo mettiamo? Cioè noi dobbiamo... oggi dobbiamo considerare più alla novità della proposta che facciamo o al come portiamo avanti una proposta che magari è una proposta semplicemente condivisa o ripresa rispetto ad esempio da altri paesi europei. da altri paesi europei. Però noi facciamo questa... cioè ci impegniamo non tanto ad individuare la novità della legge, la particolare legge sulla coppia omosessuale, sul matrimonio omosessuale, ma magari ci impegniamo un pochino di più come Stato e come associazioni a lavorare su come fare applicare, come normalizzare la realtà omosessuale che poi di fatto è l'insieme dei valori che noi commerci gay, ma appunto come cittadini italiani abbiamo. Cioè il vivere la Costituzione, questo lo dico da giurista, il vivere i principi e i valori che sono indicati nella Costituzione italiana da omosessuali con la nostra specificità. Secondo me questa è la sfida, più che riuscire a trovare, riuscire a realizzare, ad ipotizzare un nuovo tipo di famiglia, perché di fatto la strada è assolutamente aperta. a questo punto, e questo è anche un altro aspetto della sentenza 41-34 del 2012, che ha escluso, ha buttato nel cestino in un attimo tutte quelle interpretazioni sulla sentenza della Corte Costituzionale, sulla 138, che parlavano di chiusura di visione negativa della coppia omosessuale, di chiusura di possibilità politiche di avanzare. Finalmente la Corte di Cassazione ci dice, la Corte Costituzionale ha aperto, non ha chiuso, la possibilità del matrimonio omosessuale. e l'ha aperto con appunto questa novità, cioè partendo dalla differenza, e d'altra parte noi siamo diversi, così come siamo tutti uguali, siamo tutti diversi e siamo tutti uguali, quindi nella diversità una tutela che permetta appunto di normalizzarsi, brutto termine, ma diretto sicuramente, è secondo me molto importante. Giorgio, sei stato molto chiaro, l'Archigay è sempre stata vicina alle persone migranti, e se queste ultime poi addirittura sono anche omosessuali, possono andare incontro a una doppia forma di discriminazione. Tra le associazioni dell'Archigay c'è quella IO, giusto, Immigrazione e Omosessualità, che è un progetto per sostenere l'integrazione dei migranti, in quanto persone che possono essere esposte a rischio sociale. Faccio una premessa, visto voglio dire che ci siamo… perché comunque parto dall'attività non solo del nostro comitato, ma dall'attività generale di Archigay. Allora il 21 marzo a Rosarno abbiamo festeggiato insieme, o meglio non insieme, con il patrocinio e con l'organizzazione dell'UNAR, sempre l'ufficio antidiscriminazioni razziali, la giornata mondiale contro i razzismi. Perché ti faccio questa premessa? al di là della questione razziale, appunto della questione del razzismo e del disvalore razzismo. Perché abbiamo deciso, insieme all'associazione Arci generica di Rosarno, di organizzare questa manifestazione all'interno del campo immigrati, campo di accoglienza di Rosarno. Ed è stata un' esperienza veramente bellissima. Per due motivi. Primo perché c'era Arci gay all'interno del campo appunto d'accoglienza in cui probabilmente mai si è parlato di omosessualità. E poi perché chiaramente vedere questi ragazzi che due anni fa hanno combinato… non hanno combinato, hanno semplicemente evidenziato la loro condizione. Vedere questi ragazzi contenti della presenza di Arci gay all'interno del loro spazio, all'interno del loro campo, per me personalmente è stata un'emozione grossa. Tant'è vero che siamo risultati alla terza piazza d'Italia, dopo Roma che festeggiava nello stesso giorno la stessa manifestazione, con la presenza dei responsabili nazionali dell'ufficio nazionale contro il razzismo, la presenza dei big, diciamo così, ha fatto dieci minuti di applauso alla piazza di Rosarno. E questa secondo me è una cosa molto importante. Perché in tutto questo ci stiamo accorgendo che iniziano ad arrivare sempre più sbarchi sulle coste calabresi. Abbiamo da un punto di vista prettamente giuridico tutele che ci vengono affidate dal tribunale per i minori, di ragazzi che arrivano dal Mali, che vengono imbarcati coattivamente dalla Libia, ragazzi chiaramente minori. Parliamo di una situazione che è veramente molto più grande di quella che noi possiamo vedere, possiamo considerare o possiamo sentire dai vari telegiornali. L'attività di Archie Gay da questo punto di vista è stata molto importante perché appunto nel 2007 parte questo primo progetto nazionale che è il primo in Italia ad occuparsi di immigrazione ed omosessualità. Per questo la sigla appunto IO. Questo progetto è partito nell'ottica di raccogliere innanzitutto le varie esperienze di omosessuali immigrati per quanto riguarda la reazione, il contesto in cui si sono trovati arrivando in Italia. e quindi anche se hanno dovuto nascondere o meno la loro omosessualità e che tipo di eritrosi hanno trovato. E' particolare pensare proprio alla diffidenza e alle discriminazioni che sono state compiute da parte degli stessi gruppi, da parte dei gruppi diciamo della stessa con identica provenienza. Perché chiaramente la domanda successiva sarà importante proprio per questo. Chiaramente ci sono il retro, diciamo il retro terra culturale, il bagaglio valoriale che ogni persona ha dentro se lo porta che abiti, non lo so, in Afghanistan, in Kenya, in Canada, non so, o a Reggio Calabria o a Rosarno. Quindi dobbiamo pensare alle situazioni in cui il ragazzo che viene da un paese in cui appunto l'omosessualità è considerata reato, è addirittura punita con la pena di morte, nel momento in cui si ritrova con suoi connazionali si trova a dover continuare a nascondersi e a dover continuare a scappare, anche se è fuori dalla sua nazione. Quindi il progetto... Dici? No Lucio, purtroppo abbiamo soltanto tre minuti. Io però, perché purtroppo il tempo, vedi, scappa quando si dicono cose interessanti e siamo soltanto a metà delle domande che ti ho fatto. Però ci tenevo, visto che stiamo parlando di migranti e tu citavi dei paesi dove esiste la pena di morte, noi abbiamo circa un anno fa un nostro iscritto, David Cato Chisule, che era un attivista della situazione radicale certi diritti, che è stato assassinato per l'appunto in Uganda. Ultimamente si è sentito invece di quell'altro ragazzo, Daniel Zamudio, un giovane mosessuale cileno che invece è stato addirittura segregato ed è morto tra atrocità. Voglio sottolineare che cosa? Che Archiei dedicherà una targa nella sala della sede di rappresentanza nazionale di via San Giovanni a Roma. Paolo Patanè ha chiesto addirittura di presenziare all'ambasciatore del nostro paese. Brevemente, abbiamo soltanto tre minuti, ma ci tengo tanto che tu ne accenni a questo. Sì, appunto Archiei insieme a certi diritti, non c'è pace senza giustizia, è stato creato un fondo proprio per quanto riguarda il caso di David Cato, proprio per capire quali sono state le reali condizioni in cui è morto tutto ciò che è in cui è stato assassinato. Obiettivamente l'azione in questo momento, soprattutto all'estero, deve essere non solo di unità, ma deve essere di grande forza proprio valoriale. Cioè è brutta dirla questa cosa, però in certi momenti è il portare una civiltà, non una civiltà italiana, non una civiltà europea, ma una civiltà di libertà in paesi dove veramente ancora si muore perché si è omosessuali e non si muore semplicemente perché è ritenuto sbagliato, perché c'è un pregiudizio, ma perché è obbligatorio morire per questo? Nasci già condannato se nasci omosessuale. Questi sono entrambi i casi che hanno colpito non solo l'Italia, sai meglio di me, appunto, c'è stato il messaggio anche di Obama sulla morte di David Cato, perché io credo che noi abbiamo tantissimo da imparare da queste persone che portano avanti una lotta che li vede rischiare proprio la vita. Probabilmente anche qui in qualche paesino, in qualche entroterra c'è qualcuno che rischia la vita. c'è stato un attacco grosso al responsabile nazionale territori qualche settimana fa e parliamo di Verbania, parliamo di una zona comunque del nord, comunque meridionale e comunque settentrionale e quindi con cultura, soldi e compagnia varia. Penso che vivere situazioni, appunto, come quello ugandese sia particolarmente difficile e che il coraggio dimostrato da queste persone non debba essere dimenticato, ma anzi debba essere di insegnamento per noi. Ti ringrazio, Lucio. Ci sono fatto nelle nostre idee. Grazie davvero per il tuo contributo, speriamo veramente di poter continuare questa intervista in un'altra puntata di Spazio Certi Diritti e per il momento ti ringraziamo perché dobbiamo passare la linea a Gianni Colacione, Stefano Russo e Shadi Amadi per Voci Transnazionali. Grazie Lucio. Buona serata. Grazie a voi. Ciao.